salve sono paolo russi io vi aspetto ma vi aspetto veramente fino all'ultimo tutti il 5 luglio l'infeteatro dell'anima di cerveve io con l'orchestra dei virtuosi del carso nel luogo magico in cui hanno suonato che pink floyd mi pare noi lo faremo tutto lo spettacolo liscio anche senza acidi canteremo le canzoni giammaria testa corretti numerosi bene però venite almeno venga qualcuno perché io ci sono